Allora, io ho preparato semplicemente una gavellata di cuoto della chiesa di San Martino, però parlando della nuova chiesa di San Martino e quindi parliamo un po' di storia, di arte e anche un po' di iconografia dei tipi che sono presenti nella chiesa. La chiesa è stata costruita a partire dal 1728 in località di Sangredi, su un terreno donato e nei pressi della chiesa di San Simeone che andò ad essere temporaneamente la sede della parrocchia di San Martino. E per tutta la prima metà del Settecento quindi sono contratti i lavori. Grazie.